Contestazione massima, contestazione massima, facciamo schifo alla merda, facciamo carrare al cazzo, una partita vergognosa, contestazione massima, contestazione, io mi levo la maglietta, mi levo la maglia, contestazione massima, contestazione, abbiamo fatto schifo alla merda, e oggi raga, oggi si dà addio allo scudetto, addio allo scudetto, ce lo tagliamo dal petto, guarda, lo scudetto ce lo leviamo dal petto, lo tagliamo, ce lo leviamo perché tanto abbiamo fatto schifo al cazzo, quest'anno stiamo facendo schifo al cazzo, schifo al cazzo, stiamo facendo, quindi è meglio che ci leviamo lo scudetto dal petto perché non si può giocare a calcio così, facciamo vomitare, E quindi contestazione massima, io sono una furia, sono una furia, io mi levo lo scudetto dal petto, io sto a bestemmi, perché non si può, non si può, non si può, questo scudetto, glielo consegniamo a Napoli, Bolla, abbiamo fatto cagare al cazzo, cagare al cazzo, a me mi viene da piangere a vedere il Milan così cazzo, mi viene da piangere, perché non esiste, non esiste, non esiste, ci vuole rispetto nei tifosi, rispetto, rispetto, una vergogna assoluta, io davvero, davvero, no, no, ma io non lo so, se va esonerato l'allenatore, se maldini, non so più un cazzo, io sono, io sono una furia, raga, Non esiste, non esiste, tutti ritiro da stasera, tutti ritiro, perché io queste cose qua non le voglio vedere, e per fortuna che ci sono delle squadre che fanno più cagare di noi, e sono 10, non so come cazzo facciamo essere secondi, non lo so, vaffanculo a tutti, dovete andare a lavorare, a zappare, potessi vi prendere a schiaffi a due mani, raga, sempre forza Milan, qualcuno deve darsi risposta, 100.000 like, ci vediamo domani.